vai ma che è questa espressione? tu devi guardare giù ma fa romio su un balcone aspetta tanto oltre questo possiamo ottenere questa è la sigla finale, guardala guarda quando vado a barriere 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 sono già pronta e fui hai detto fui ah è tuo cuore ma non credo guarda quando vado a barriere guarda quando vado a barriere guarda quando vado a barriere Sì